Un cordiale saluto a tutti e benvenuti su Zenefix Official Channel, il canale dedicato al mondo del trading. Siamo pronti anche oggi per presentarvi un altro corso davvero molto molto interessante con un professionista d'eccezione. Allora andiamolo subito a salutare, diamo il benvenuto al nostro ospite, salutiamo il caro Fabio Favitta. Ciao Fabio, bentrovato. Ragazzi, buon pomeriggio a tutti, grazie. Ciao Fabio, grazie per essere qui con noi quest'oggi e presentare il corso molto interessante che tra poco andiamo a vedere, ma facciamolo subito, facciamo già vedere in sovrimpressione il corso, eccolo qui, lo vedete, corso operativo, la potenza delle medie mobili esponenziali, corso a cura appunto di Fabio Favitta. Voi non dovete fare altro che cliccare immediatamente a questo pulsante verde, lo vedete, il costo è di soltanto 99 euro. Il corso partirà il primo di febbraio, quindi due lezioni, quindi il primo febbraio alle ore 20, quindi giovedì, 90 minuti dedicati alle medie mobili esponenziali e poi attenzione perché c'è una grande novità, ma di questo ne parliamo tra poco. Voglio prima dare la parola a Fabio. Fabio, presentati per quei pochissimi trader che non ti conoscono ancora e far sapere un po' la qualità di questo corso. Diciamo che in rete da qualche anno mi chiamano l'artigiano del trading perché ancora utilizzo l'analisi tecnica, diciamo classica, ordinaria, ma anche quella straordinaria, un po' più evolutiva, per prendere posizioni sui mercati. Questa tecnica che oggi lanciamo insieme, solo per pochi iscritti, è una tecnica che considera l'incrocio di due medie mobili importanti, perché le utilizzo solo io in Italia. Non le utilizzo come in analisi tecnica classica la 50, la 100, la 200, ma utilizzo dei numeri diversi che ho testato negli anni e che oggi hanno dato veramente dei risultati importanti soprattutto per le posizioni di lungo periodo, non quelle di breve. Ecco, allora Fabio, lo vediamo scritto sul sito, quello che è il settaggio delle medie mobili, correggimi se sbaglio, 55, 88, 89, 233, questa è una serie di numeri di Fibonacci, giusto Fabio? Assolutamente sì, assolutamente sì. Ecco, allora parlaci un po' di questo corso. Ho trovato in questa sequenza, quindi medie mobili implementate con questi numeri, una importante zona dove quando il mercato parte o a ripasso o a rialzo creano delle resistenze e l'incrocio insomma crea la possibilità proprio visionabile perché non bisogna fare nessun calcolo, a differenza per esempio del calcolo delle onde di Heliotto oppure il tessespallo insomma che è una tecnica che ho utilizzo già da anni a sette configurazioni. Qui bisogna visionare proprio un importante incrocio che chiaramente farò vedere solo all'interno del webinar. Quindi assolutamente live, assolutamente live, quindi un corso assolutamente operativo, quindi da non perdere assolutamente, ricordatelo, il primo di febbraio alle ore 20, 90 minuti con Fabio Favitta, voi non dovete fare altro che cliccare questo pulsante, sblocca corso, come vedete c'è anche un costo davvero irrisorio, quindi 99 euro è praticamente una cena che dovete sacrificare ma ecco per appunto arricchire sempre di più il vostro bagaglio culturale per quanto riguarda il mondo del trading. E poi Fabio c'è una grande novità, c'è una grande novità che vogliamo appunto spoilerare, vogliamo presentare a tutti i nostri amici che ci seguono, ecco chi acquisterà questo corso avrà diritto anche a una coaching personalizzata, giusto? Assolutamente sì, oltre al webinar, quindi essere presenti al webinar, il trader che si iscriva avrà chiaramente la possibilità di scaricare l'ebook dove io spiego la tecnica, quindi di già rimarrà sempre nelle sue mani e poi farò in plus una coaching one to one ad personam, cioè l'iscritto non solo sarà presente nel webinar dove saremo tutti con domande chiaramente di bot e risposta plausibili, ma farò anche poi delle coaching su Skype ad personam, chiaramente poi lì stabiliremo con il corsista iscritto la data e l'orario consono le sue esigenze lavorative. Ecco quindi non perdetevi questa grande opportunità che ZNFX in collaborazione con il caro Fabio Favitta mette a disposizione di tutti quanti voi, quindi approfittate perché c'è anche questa coaching personalizzata con tutti gli iscritti al qual corso, come vedete ancora in sovraimpressione, potete tranquillamente prenotare il vostro corso andando sul nostro sito zenefixofficial.com, nella sezione corsi trovate appunto il corso operativo alla potenza delle medie mobili esponenziali, appunto il corso che vi stiamo presentando quest'oggi a cura di Fabio Favitta. Ecco Fabio, volevo chiederti se questa è una tecnica facilmente replicabile da tutti i corsisti. Assolutamente sì, è una tecnica replicabile perché nel momento in cui io vi farò vedere come la utilizzo, basta poi nella piattaforma mettere queste due medie e al verificarsi di tre condizioni che chiaramente spiegherò ampiamente in maniera esaustiva al corso, si entra a lungo short per il lungo, perché è una tecnica che va a posizionarsi sul sottostante che noi stiamo analizzando per una posizione che va mediamente da un mese a 4-5 mesi e si chiuderà quando si verificherà un'altra condizione importante sempre sulle stesse MM. Quindi tutto questo sarà spiegato minuziosamente nel corso che vi stiamo facendo rivedere nuovamente in sovrimpressione. Giovedì 1 febbraio a partire dalle ore 20 ci sarà la prima lezione dove appunto il nostro formatore Fabio Favitta vi spiegherà appunto l'utilizzo di queste medie mobili esponenziali e poi sempre per chi acquista questo corso lo ricordiamo ci sarà, avrete diritto anche a una coaching personalizzata con il nostro formatore il buon Fabio Favitta, chiaramente vi metterete d'accordo con lui per quanto riguarda gli orari per questa coaching. Fabio allora un consiglio per chi si vuole avvicinare al mondo del trading e per chi vuole acquistare questo corso. Allora la cosa in realtà che ho testato nel tempo è che questa tecnica è veramente replicabile in maniera facile sia per i neofili che non e diciamo che il plus è che è una tecnica che non ti rende stressante perché non devi stare ogni giorno ok ogni ora davanti monitor ma è una tecnica di lungo periodo in cui si verificherà quella condizione particolare che vi farò vedere bisogna lasciare la posizione per il lungo periodo magari aprire il grafico solo settimanalmente cioè vedere se questa condizione che ha creato la nostra posizione si sta chiaramente in trend following verificando e la chiusura andrà chiaramente a verificarsi solo quando accadrà un'altra condizione che chiaramente fa parte della tecnica quindi replicabile per tutti facile da applicare e in qualsiasi sottostante chiaramente affronteremo la tecnica solo su due time frame h4 ed eli perché non va applicata sul time frame inferiore. Perfetto vi abbiamo sicuramente incuriositi anch'io personalmente sono molto incuriosito a questo corso credo di parteciparci Fabio o ti manderò qualcuno perché è un corso davvero molto interessante allora voi non dovete fare altro che appunto digitare www.zenfxofficial.com andare nel nostro sito trovare la sezione dedicata al corso come vedete trovate il corso operativo alla potenza delle medie mobili esponenziali a cura di Fabio Favitta e dovete cliccare questo pulsante il pulsante verde vi ricordo che avete diritto anche a una coaching personalizzata con il buon Fabio di 90 minuti quindi cosa dirvi non lasciatevi scappare questa grande opportunità che Zenfx in collaborazione con Fabio Favitta mette a disposizione di tutti quanti voi. Bene Fabio prima di concludere volevo sapere ma è un tuo cavallo di battaglia la usi sempre questa tecnica particolare? È un mio cavallo di battaglia solo per le posizioni di lungo ti dico che poi in realtà utilizzando altre tecniche io potrei essere long su un sottostante in base a questa tecnica ma in realtà correlato in spread trading magari short con altre tecniche sullo stesso sottostante ma la posizione long o short presso con questa tecnica rimarrà sempre aperta. Nel frattempo anche sullo stesso sottostante farò anche altre operazioni contrarie che chiaramente in piattaforma si possono tranquillamente implementare ma questa posizione di lungo periodo da 1 a 5 mesi resterà dentro fin quando si verificherà una condizione per chiuderla. Davvero molto 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 interessante. Bene allora Fabio io ti ringrazio per essere stato con noi qui a presentare il tuo corso operativo la potenza delle medie mobili ci vediamo quanto prima per la presentazione di un altro corso firmato Zenefix in collaborazione con Fabio Favitta. Ciao Fabio grazie. Ma studi se mette sì il mio volto è sempre lo stesso il mercato ti parla bisogna solo sapere ascoltare ci vediamo 1 febbraio per chi si iscriverà al corso alla prossima. Grazie Fabio seguite dunque le parole sagge del buon Fabio Favitta il nostro formatore che come vi dicevo appunto presenterà questo corso operativo la potenza delle medie mobili lo rivediamo ancora per l'ultima volta voi non dovete fare altro che cliccare questo pulsante verde e quindi prenotare il vostro posto come avete sentito ci sono soltanto pochissimi posti a disposizione per seguire davvero bene tutti i corsisti quindi affrettatevi e appunto avrete diritto come dicevamo a questa lezione del primo di febbraio alle ore 20 con la potenza delle medie mobili esponenziali come avete visto ne abbiamo anche parlato con Fabio e poi avrete diritto anche a una coaching personalizzata. Una cosa importante che abbiamo anche dimenticato di dirvi è quello che riceverete anche un ebook da parte di Fabio e riceverete anche un attestato firmato sia da Fabio Favitta e anche un attestato firmato dal nostro responsabile Zenefix ovvero Costantino Zeronos che chiaramente salutiamo. Bene è davvero tutto noi ci vediamo chiaramente alla prossima presentazione di un altro corso firmato Zenefix official non mi resta che augurarvi una buona formazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.